Sor Maria Claretta, ma quando hai avuto la tua chiamata? La chiamata? Quale chiamata? Ah, sei la chiamata! Non capivo che ti riferivi a quella chiamata! La storia di Deloris Van Cartier, Deloris ritorna a rivestire i panni della suora anche questa volta, ma non come la prima volta perché lei aveva bisogno di aiuto, ma questa volta hanno bisogno di aiuto le suore e soprattutto i ragazzi della St. Francis, che è una scuola, insomma ragazzi un po' scappestrati. E questa scuola è in procinto di chiudere e dovremmo scoprire se Deloris riuscirà a salvare la St. Francis, la scuola. Uno, due, tre! Grazie, grazie, può bastare. Bene, Maria Patrizia, ho notato che hai uno strumento molto poderoso, ma sarebbe il caso che tu lo utilizzassi per cantare qua tra noi e non sul soffitto? Ci proverò. Certo, tutti vogliamo avvicinarsi al Signore, ma forse non è il caso di mettere in paura, che dite? Siamo ormai arrivati al settimo anno, siamo i giovani dell'Oratore di Cucurano, andremo in scena il 4-5 maggio al Politeama, replicando quest'estate la BCC Arena, e andremo in scena quest'anno con il musical Sister Act 2, dopo il successo dello scorso anno con Sister Act 1. Collaboreremo con il coro gospel Slave Song di Cucurano per la regia di Edoardo Frustaci dell'Associazione Teatrale Oltre il Sipario. Lunedì 4 e martedì 5 maggio al Politeama Fano. You know you make me want to show!